Ehi Ferenichi, ti andrebbe di uscire con me? No! Ok! Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferenichi! E io sono Stefia, che stagia chiama Roblox! E oggi torniamo con un nuovo tre mappe in uno! E iniziamo con questa mappa molto particolare in cui lo scopo sarà quello di avere un appuntamento! Perché non vuoi avere un appuntamento con me? Perché non sei bello, guarda come ti sei conciato, non mi piace! Sono elegante, con il cappello che uso sempre per uscire, con le spade per difenderti se qualcuno ti disturba durante l'appuntamento! Non ho bisogno, non l'hai letto il mio nick? No! Ah, non c'è più! Non c'è più! Mi si è tolto per aspettare il medio subito! Perché qua non voglio non riconoscere la mia potenza e mi levano i nick! Hai fatto un fail terribile! Lo vedi il mio nick? Quindi ti dicevo non ho bisogno di protezione! Ma la regina ha sempre una guardia del corpo, scusami! No, no, io sono quel tipo di regina che pensa da sola a se stessa! Grazie, Manuel Winter! Ciao! Quel tipo di regina che non è nemmeno una regina! Allora, guarda, ho cambiato faccia, adesso sono pronto! Ti piaccio? Ciao! Allora, vatti a preparare al volo, come sempre la donna si fa aspettare, ti prepari, ti vesti come vuoi, mi raccomando elegante, dato che io sono elegante! Ma non mi voglio vestire elegante! Vestiti elegante! È un appuntamento serio! Non c'è niente di elegante qui! Ti sei vestita bene? Sei elegante? Sei bella? Dove sei? Aspetta, adesso esco! Stai sbagliando strada! È dall'altra! E dall'altra vengo a prenderti! Ok, ok, ci sono, ci sono, ci sono! Ti piace? Sei seria? Sì! Sì! Sono un incognito, perché sei con me, se andiamo in un locale pubblico c'è la possibilità che tutti riconoscano Fereniki, la regina, e quindi mi sono dovuta camuffare con gli occhiali da sole, capito? La cingomma che dà un po' un senso di spensieratezza, e quindi, andiamo! Cioè, ti rendi conto? Dico, cioè, preferivo... Stai dicendo che ti vergogni di uscire con me! Esattamente! Io me ne vado, mi faccio un selfie da sola, perché così, capito, capito? Sai quelli che si fanno i selfie da sola e dicono l'appuntamento con me, me stesso, e mi sto divertendo un sacco, non mi tirare i palloni in faccia! Ti sto tirando i palloni in faccia! Non ci provare! Adesso scrivo su Facebook che sei un maleducato! Non ti sopporto! Chi mi ha fatto bugare? Già il primo appuntamento non ti sopporto più, ok? Ma dove sei finita? Sto provando questa stranave bellissima! Cosa stai facendo? Non funziona! Dove andiamo? Dai, dove andiamo? Facciamo i seri e continuiamo il nostro appuntamento! Allora, andiamo a prenderci un gelato! Ma non è meglio prima il cinema? Prima il chip e poi il gelato! Allora, l'appuntamento lo faccio io! Sei vestita come non so che cosa sembri una pop star fallita! Quindi, quantomeno... No, sono la regina Ferenichi! Non capisce niente! Una pop star fallita! I consolini capiranno ma tu non capisci nulla! Quindi, quantomeno decido io come e dove andiamo, ok? Ok, dai, il gelato mi sta bene! E non si usa il portatile! Eh, oh, vabbè! Stai come? Devo scrivere sui social come sta andando il nostro appuntamento! Assolutamente no! Mi sembra giusto! Allora, a che gusto lo vuoi? Hai vaniglia e menta e fragola e mandarino! Fragola! Ok, comprato! Eh, tieni! Ah, ma l'ero comprata da sola! Ma te lo dovevo offrire! Vabbè, sono intraprendente che ti devo dire! Stai rovinando ogni cosa! Vabbè, ce lo mangiamo entrambi alla fragola! Ok, vai! Spostiamoci un po' e vieni qua nei tavolini! Hai già iniziato a mangiare pure! Esatto! Andiamo nei tavolini! No, hai ragione! Ok! Il fatto è che mi si apre un attimino la schermata! Aspetta! Ma lo mangia? Sì, sì, lo mangia! Giam! Che buono! Devi per forza stare in quella posa tu per mangiarlo! Sì, esatto! Ora sei diventata una rockstar! Esatto! Ma finisce? Non lo so! Non sembra, vero? Vabbè, io continuo a mangiare! Buonissimo! Grazie! Ok! 50 cash! Ce li ho? Sì, certo, per questo appuntamento! Sei ricco tanto! Sono ricco! Ho portato un sacco di soldi per fare il figurone con Ferenichi! Allora, guarda che bello! Guarda che è un momento romantico! Io continuo a mangiarmi il gelato! Mi sa anch'io! Già che ci sono! C'è pure il tramonto! E siamo per la nostra mongocchiera! Molto romantico! Sei emozionata? Tantissima, tantissima! Non si vede la mia faccia? Sì, si capisce subito! Guarda come sto tremando di felicità! Perché sei incastrata dentro la mongocchiera? Io vedo te così incastrata! Ah, ok! Ti veci... Vabbè, vabbè, vabbè! No, è perché sono felice, capito? Allora... Per quello! Devo farti una confessione! Dimmi! Non so come scendiamo! Io mi butto! No, 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 no! Ok che sta andando male questo appuntamento, ma non così tanto! Allora, stiamo iniziando a uscire fuori dalla mappa! Io non vorrei dire, però stiamo andando troppo in alto! Vero? Che dici? Come si scende? Allora, fammi provare a cliccare il bottone! Stiamo scendendo, stiamo scendendo! Aspetta che scrivo uno stato su Facebook! Stiamo riuscendo a scendere! Per fortuna! Appuntamento bellissimo! Hashtag Ferienichi è la migliore del mondo! Ma che c'entra? Al massimo sono io il migliore atto che l'appuntamento l'ho organizzato io! Scusami! Eh, ma devi elogiare la persona con cui stai facendo l'appuntamento! Appuntamento! Basta essere! Non ha senso! Mi metto questa faccia e resto così per tutto il resto d'appuntamento! Come sei? Dai, adesso andiamo al cinema dopo quel bellissimo momento con il tramonto e la mongolchiera! E' ora di guardarci un bel film! Cosa vuoi guardare? Ce ne sono solo due! Esatto! Cre... Sembra! Colpa delle stelle l'ho già visto, quindi facciamo Gravity giusto perché non l'ho mai vista! Ok, allora! Buongiorno! Salve! Vorrei due biglietti! Con chi stai parlando? Non lo so! Stiamo cercando di fare un po' di roleplaying ma è davvero troppo a parlare da solo! Vabbè, vuol dire che il cinema è gratis qua! Ma scusate! Abbiamo pagato per Gravity! Anche se non abbiamo pagato! E c'è un'immagine di SpongeBob! Allora... Eh, vabbè, capita! Sai com'è? Quando vai al cinema sbagli sala può capitare! E c'è una foto invece che un film! A me non è mai capitato! Sì, vabbè! Bello! Sì, molto... Sì! Molto emozionante! Continua a mongere il mio gelato che è la cosa più bella di questo appuntamento! Io tiro palloni in giro! E messaggio! Sto scrivendo su Facebook! Momento molto imbarazzante! L'ho portata a guardare Gravity e c'è una foto di SpongeBob! Proprio neanche il film, solo la foto! Totalmente! Dai, facciamoci una foto! Guarda qua! Che beeeele! Eh... Ti propongo una cosa io! Ok! Andiamo a fare skate! Va bene! Ok! Ok! E dov'è lo skate? Dov'è? Ah, eccoli! Devi comprare! Vabbè! Vabbè, ma quanto costa? 50! Compro quello da 50! Anche io, anche io! Ho sempre sognato a fare skate, quindi non mi puoi privare di questa... Andiamo, andiamo, andiamo! ...di questa emozione in questo momento! Un appuntamento pieno di emozioni! Esatto! Più o meno! Mi metto qua! Sì! Bravissima! Parti già molto bene! Mi metto! Come ci si sale? Ma... Credo che ci devi salire, Sop! Sì! Eccomi! Ce l'ho fatta! Ok! Guardami! Uuuuuh! Sono bravissima con lo skate! Ma l'hai visto il trick che ho fatto? Guardami! Ma dai, ma... No, sono... Questi come si chiamano? Sono abilità da skater che tu... Ovviamente non essendo uno skater non conosci, capito? Certo, certo! Io invece sono uno skater famosissimo! Si nota la differenza tra me e te, eh? Guarda! Allora, se sei davvero brava con lo skate... ...ok? Devi saltare questo muro! Eh, vabbè, mi chiedi troppo! Se sei brava ce la puoi fare! Io mi sono invece incontrato! Non si va di testa nello skater! Te l'ho insegnato! Non me l'ha insegnato nessuna! Aspetta, aspetta! Cerco di sistemarlo! Direi che l'appuntamento può andar bene così! Abbiamo fatto tantissime cose! Andiamo a provarne un'altra! Forse sarà di nuovo un due mappe in uno! Perché in effetti abbiamo una mappa che ti piacerà molto! Meglio di un appuntamento! Ok, sono curiosa! E quindi secondo me... Anche sì, perché questo appuntamento non è stato di migliori! Il film non si vedeva, capito? Lo skater non funzionava! Non è stata colpa mia! Almeno io sono stato carino, giusto? Non lo so! E se ti faccio un ballo? Vai! Ora sì che si ragiona! Ora sì che Steph mostra le sue reali abilità! Ti faccio anche il moonwalk! Vai! Vedi, però... Con il cappello ci sta tutto, vai! Non so andare al contrario, però vedi, lo sto facendo! Ok, lo prendo per buono! La dub! Oh yes! Oh yes! Basta, cambiamo mappa! Ed ecco l'altra mappa di oggi! È la mappa della vita questa! Si chiama tipo Polygans qualcosa! Aia! Mi ha ucciso! C'è un tipo che ha la spada! Non so come ha fatto! Sì, mi ha distrutto! Anch'io sono... Mi stanno facendo malissimo! Eh, lo so! Sono bravissimi! Allora! Concentrazione! Contasso destro, miri un pochettino e così mi spari! È bellissima! È fatta davvero bene! Si può anche correre! Oh yes! Ho fatto una kill! Bravissimo Steph! Bravo! Ma siamo tutti contro tutti, giusto? Quindi vado e picchio! Esatto! XP crate! Non so cosa sia ma la prendo! L'ho trovata anch'io! Boh! Vabbè! Dove sei, bella? Con la E puoi tirare anche delle granate che fanno un sacco di male! Quindi ricordati di utilizzarle! E qualcuno ha piazzato una specie di torretta strana che ho dovuto distruggere! Qualcuno mi stava sparando! Ho provato a tirargli una granata! Non è che sono io? Questo qua? Mi ha ucciso! Sì! Mi ha ucciso! È perché non si capisce? Siamo tutti uguali! Ah ah ah! Oh! Finalmente ci siamo trovati! È dato! Qualcuno mi stava sparando e ho detto cavolo stavo sparando io! Buongiorno signorino! Perfetto! L'ho ucciso! È bella vero? È fatto davvero bene questa! Molto particolare! Non sembra neanche Roblox sinceramente! Ma c'è un tipo! Ok! Che fa delle strisciate a terra e rimane bassissimo! E non riesce a spararlo! A me... Fai shift C! Allora shift C! Vedi che figo! E qui sono tutti superabili! Ok! Esatto! 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 A me continuo a uccidere uno con la spada! Voglio la spada anch'io! Anche io! A me ha ucciso un po' di volte quello con la spada e poi un tipo quello che appunto faceva la super scivolata da pro! Hai capito le differenze di armi quando clicchi la rotellina? Una spara veloce e l'altra spara abbastanza lenta! Io uso sempre quella veloce sinceramente! Io non faccio un tempo a vederle che se mi fermo un secondo mi uccidono! Questo c'aveva lancia fiamme ma scusate! Ma ditelo prima! Ah vedi? Qua praticamente prima di salire ti scegli l'arma! Arma secondaria! Voglio la spada! Ok io mi sono messo la spada! E allora le possiamo avere! Ottimo! Sì sì sì! Quindi vediamo adesso! Questo mi ha tirato tipo qualche granata a gas perché per un momento non ho visto più nulla! Ma davvero? Ci sono anche come il genere? Eh sì! Suppongo di sì! C'era tutto fumo! Non ho visto niente! Io ho messo la spada! Sono andato su un tipo addosso e l'ho mancato! Wow! E mi ha ucciso! Ah vabbè! Cosa è che capita? Non so come... Esatto! Continuo a provare un pochettino la spada perché sono curioso! Scivolata! Tazza! Oh! Chi l'epica! È cambiata anche la mappa! Eccola! È cambiata anche la mappa! Andiamo! Davvero? Andiamo! Granata! Ah ma siamo a team adesso! Ecco perché non potevo ammazzare le persone! Ah ecco! Ora siamo in team? Sì! 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 Come si capisce quali sono e quali non sono? I tuoi... Quelli con te sono verdi! Ah noi siamo nello stesso! Ok! Noi siamo nello stesso! Però non vedo nemici! Penso che ci sia una lag incredibile! Vero? Eh esatto! Ok! E infatti mi ha buttato fuori! Diciamo che è bella la mappa! E ci buttate fuori! Eh perché stavo sparando un tipo non lo vedevo morire! Quindi ho detto sì! Lag purtroppo! Giochiamo un altro po' Non ci possono buttare fuori! Rientreremo sempre comunque nella mappa perché è troppo divertente! Ci puoi contare! Oh no 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 no! Bravissimo Steph! Aia! Aia! Bravo! Uh! L'ho ucciso davvero! Io non capisco! La distanza ideale di questo fucile a pompa! Forse è molto molto vicino! Perché tanto tanto! Normalmente è così! Il problema è come fai ad avvicinarti a uno se nemmeno ti spara! Devo trovare feri micchi perché lei è un po' più facile da uccidere! Ma sei zitto! Guarda! Due colpetti e l'ammazziamo! C'è gente che corre proprio come di pazzi! Una cosa incredibile! Oh yes! Sì se ti avvicini bene col pompa! Due hit! Ok perfetto! Doppia kill! Dai voglio almeno la tripla! Voglio almeno la tripla! Buongiorno signorino! Buongiorno! Ma sono io? Non lo so! Sì! Vedevo il tuo schermo visto distratta per guardarlo sì! Perché mi sentivo sparare troppo! Mi avresti ucciso! Mi avresti ucciso! Sì molto probabile! Sì 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 ti avevo mancato decisamente troppe volte! Ma le scatole come si prendono? Perché non riesco a prenderle? Prima riuscivo a prenderle ora no! Aia! Sono stata io? Sì! Ah vendetta! Finalmente! Era 3 kill di fila! Mi ha fatto spaventare ho girato l'angolo e c'era qualcuno l'ho sparato subito! Ma io che mi avevo anche visto pensate che ne avevo anche quel vantaggio! No io proprio ho girato e l'ho visto vabbè vabbè! Non lo so secondo me per prendere le crate serve un tasto! Comunque dai direi di fermarci così! Sì 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 sì! Due mappe in uno ma non avrebbe senso fare la terza perché esce troppo lungo il video poi queste due mappe erano davvero belline! Ci siamo divertiti a fare l'appuntamento! Non so cosa c'entri fare un appuntamento e poi andare a sparare! Io ho apprezzato di più l'andare a sparare sai com'è! Almeno mi sento più a mio agio mi piace molto di più! Quindi sono stata contenta di giocare questa mappa! Esattamente! Vi annunciamo anche che dato che questo qua è il novantesimo, novantanovesimo episodio di Roblox il centesimo sarà un episodio speciale dove rigiocheremo una delle nostre mappe preferite di sempre che abbiamo portato nel canale che era piaciuta tanto 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 a noi tanto 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 a voi e non avevamo mai più rifatto! Vi diamo come indizio il fatto che è un tycoon! Cercate di indovinare nei commenti! Esatto! Bene che se piace così se ci piace, scendeteci un like! E se è la prima volta che avete visto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao! Ciao!